Musica 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 Lei è? Je suis Michel Noir Che rapporto aveva con la vittima? Ex moglie Dov'era questa sera? Al cinema In che posto era seduta? La terra Dalla di sua deposizione Vedo che ha avuto un lungo periodo di depressione Dopo che Trovato l'ha lasciata Non potrebbe averla indotto Non so Allora dall'omicidio Je suis Noir Non so chi ha ucciso Mr. Tar Ma lo scopriremo Ogni lunedì alle 22 su radiofonica.com